Salve a tutti ragazzi e bentornati su Cose dell'altro cinema. Questo è un tipo di video che non faccio spesso. In genere quando un personaggio muore tutti quanti si buttano a far video e io l'ho sempre ritenuto un po' uno sciacallaggio. A volte non lo è, a volte si tratta di reale interesse per il personaggio, si tratta di stima, si tratta di voglia di celebrarlo, altre volte proprio sciacallaggio. Però non mi sento in colpa a fare questo video, non mi sento uno sciacallo perché il soggetto in questione l'ho amato da morire. E il motivo per cui non ne parlo, non ne sto parlando, è che si è ritirato dalle scene da troppo tempo, tanto tanto tempo, e ormai quando voglia di vedere qualcosa del mago Gabriel devo scavare negli archivi di YouTube per ritrovare quelle ormai mitiche trasmissioni della Jalappas Band, che in realtà me l'hanno fatto conoscere all'epoca. Allora, il mago Gabriel, probabilmente avete visto la sua faccia sui social, messaggi di commiato, di dolore, di nostalgia, stanno imperversando per tutto il web, soprattutto fra noi un po' più vecchiotti. Però se avete qualcosa come 15-16 anni sicuramente non avete fatto la conoscenza diretta del mago Gabriel. E nel caso non conosciate nulla di quest'uomo, sarò lieto di farvi da guida nel meraviglioso mondo del mago Gabriel. Allora, correvano gli anni 90 e la Jalappas Band portava in televisione in una trasmissione chiamata Mai Dire TV. Era un format che all'epoca era geniale, era qualcosa di estremamente innovativo, perché era la reaction. Quelle che noi facciamo adesso su YouTube, io no, però molti youtuber fanno le reaction e sono dei format che funzionano benone, all'epoca già esistevano, negli anni 90. La Jalappas non faceva altro che sintonizzarsi su diversi canali di televisioni private, emittenti anche molto molto piccole, molto molto arrangiate, e fare le reaction ai format di queste televisioni, le diverse trasmissioni, c'era di tutto, c'era un'umanità pazzesca, c'erano dei teleimbonitori veramente al limite della truffa, c'erano questi cartomanti, c'erano gare canore al limite del dissonante, proprio cose meravigliose, ma anche cose geniali, c'erano dei cantautori incredibili come Donato Mitola, Matto come un cavallo, però faceva delle canzoni che io non mi sono mai riuscito a togliere dalla testa. Cercate Donato Mitola su YouTube e scoprirete un mondo, uno psicopatico come pochi, ma genialissimo. Ecco, in questo universo che la Jalappas ci portava a casa, a cadenza, giornaliera, settimanale, non ricordo, ricordo che guardavo mai dire tv tornato dalla scuola, però non ricordo quante volte a settimana, ad ogni modo, in questo bellissimo circo, in questo carrozzone che ci portava, c'erano delle perle, l'ho detto Donato Mitola, era assolutamente una perla, un'altra perla era la telenovela piemontese intitolata Sogni d'amore, ed era una telenovela girata veramente male, 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 con attori cani, 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 con una regia orrida, con una scrittura pessima, ed era la cosa più divertente del mondo. Io, io ve lo giuro, ve lo giuro, pagherei mille, mille e cinquecento, duemila euro per avere le puntate, tutte le puntate originali di Sogni d'amore, senza la voce della Jalappas sopra. Perché noi le abbiamo viste, non tutte perché erano selezionate, abbiamo visto le puntate di Sogni d'amore, ma c'era il commento della Jalappas. Divertente quanto vi pare, però adesso, passati tutti questi anni, darei non so cosa per avere gli episodi originali, senza commento della Jalappas. Un giorno forse vi parlerò anche di Sogni d'amore, ma questo è il momento del mago Gabriel, perché il mago Gabriel adesso non c'è più, in realtà si è ritirato da tanto tempo dalle scene, ok, però adesso proprio non c'è più, è morto. E quindi voglio farvelo scoprire, oppure, per voi vecchiacci, voglio ricordarlo insieme a voi. Allora, il mago Gabriel andava in onda su Rete 3 Manila, che era la stessa genialissima rete torinese che mandava in onda la telenovela piemontese. Il mago Gabriel era un mago, ma non era un mago come gli altri. Cioè, il mago Gabriel non è che si limitava a fare i tarocchi, anzi, non li faceva proprio i tarocchi, o perlomeno nei video che ho visto io non ha mai fatto i tarocchi. Faceva sempre cose fuori di testa, cioè lui era davvero speciale in quello che faceva. E ne ho visti tanti di maghi, ero fissatissimo con Rowena, la tua amica cartomante, e altri psicopatici di quel tipo, ma il mago Gabriel era un altro livello proprio. No, non c'era paragone con tutti gli altri. Addirittura, mi ricordo che fece l'oroscopo, come diceva lui, un oroscopo cinese però basato nel mangiare. Traduco, un oroscopo simile a quello cinese, ma incentrato sul cibo. Ed era meraviglioso, cioè lui per ogni segno, che poi ne salta pure uno, per ogni segno diceva cosa gli appartenenti a quel segno potessero mangiare o no. Il toro, non ci date mai pesce, diceva il mago Gabriel, perché il pesce lo nutre terribilmente enorme. Aveva dei problemi a parlare, gravi, gravissimi, e usava degli intercalari che io non ho mai più sentito nella vita, a sua volta. Usava sto a sua volta senza senso proprio, in mezzo alle frasi, ma senza senso. Come certa gente utilizza il cioè. Cioè come a dire, ragazzi, domani sera andiamo a mangiare la pizza perché Marco a sua volta ha detto che ci dobbiamo andare a fare anche la birra dopo. Cioè così proprio a caso. Ed era fantastico. Infatti c'è anche il libro del mago Gabriel che si intitola A sua volta gli uccelli volano. Ricordo degli episodi meravigliosi. C'era un episodio in cui insegnava a fare un filtro d'amore. E la sua ricetta era terrificante. Cioè dovevi prendere un cuore di passero, un cuore di rondine, un cuore di piccione a brustolirli in forno, polverizzarli e darli da bere alla persona con cui volevi fare l'amore. Soltanto che lui diceva il filtro non serve per sciogliere o a viceversa ammaliare la gente. Così dice. Non serve per cuocere o sciogliere o viceversa ammaliare la gente. Il filtro d'amore serve soltanto per far l'amore. Quindi non è che si innamora questa persona, però te la trombi. E dava questa giustissima informazione alla fine perché nessuno si illudesse che fosse davvero una questione sentimentale. Era soltanto un afrodisiaco, diciamo, il suo filtro d'amore. Era bello come prendesse così sul serio questa cosa e allo stesso tempo la rendesse così farlocca con il suo modo di parlare, con queste ricette allucinanti. Io potrei parlare di ore del mago Gabriel. C'è un episodio meraviglioso in cui con un uovo di upupa, di uccello, che poi in realtà c'ha in mano un uovo di gallina, sparisce. E la cosa che preferisco di quel video, cioè lui diventa invisibile con quest'uovo, beve quest'uovo di gallina, diventa invisibile, chiaramente con un trucchetto televisivo del cazzo, una dissolvenza, un montaggio, lui poi non c'è più e si sente la sua voce, perché lui è fuori campo. Ma la cosa che mi piace è quando spiega come funziona questa magia. E dice una delle frasi più belle che abbia mai sentito, vi ho parlato della frase di Luca giurato, non Michele giurato, poi vi dico anche chi è questo Michele giurato, anzi Michele l'ho giurato, fa sempre parte di quegli anni della mia infanzia, ecco perché mi sbaglio sempre con questi giurato. Comunque dice una frase che è meravigliosa, dice diventare invisibili tramite dei lavori. Quando spiega come funziona l'uovo del lupupa, dice diventare invisibile tramite dei lavori. A me mi ha sempre ucciso quella cosa, da bambino mi uccideva sentire quella cosa. E non lo so ragazzi, c'è un episodio in cui cerca gli ignomi, va in un parco, cerca gli ignomi, agitando le foglie morte, simula questi ignomi che giocano. Come dice lui, saltano, cantano, si aprono. Dice lui così, metà forse, non lo so. Parla con gli spiriti dell'acqua vicino ad una fontana, perché c'è il muschio attaccato alla fontana, e quelli sono gli spiriti dell'acqua. Cioè, ragazzi, per me il mago Gabriel è tutta una serie di meraviglie, ma proprio tutta una serie di meraviglie. Un giorno vi parlerò di Vito Colomba. Vito Colomba è un altro eroe della mia infanzia e fa parte anche lui del carrozzone di My Dire TV. Voi non avete idea di quanti danni ha fatto la jalapas a me. Cioè io adesso probabilmente adoro il trash, adoro la monnezza a questo livello per via della jalapas. Perché erano gli anni in cui guardando le televisioni private tra Abruzzo e Molise, quelle che avevamo a disposizione noi, non c'era digitale, facevamo la stessa cosa con i miei amici. Ce n'erano due, tre malati quantomeni di trashume vario e noi con le videocassette registravamo queste cartomanti, questi teleinbonitori e avevamo delle cassette di tre ore piene, ma proprio piene di televendite, piene di cartomanti. Perché noi registravamo tutta la trasmissione. Poi magari c'era una perla di tre secondi, ma non potevamo fare un montaggio fatto bene. Quindi avevamo ore e ore di trasmissioni che avevamo praticamente imparato a memoria. Io ricordo personaggi che voi sicuramente avete rimosso. ricordo addirittura i nomi delle persone intervistate nelle televendite dei callifughi. Ricordo la signora Pia Orri che parlava in una maniera incomprensibile, credo fosse Veneta, una signora anziana veneta che parlava di sti piedi che le facevano male e di come avesse risolto il problema grazie a un callifugo. La signora Pia Orri non capivo che cazzo dicesse. Eppure a livello fonetico sapevo perfettamente, cioè potevo parlarle dietro, potevo doppiarla da quante volte l'avevo sentita. Quindi adesso sapete, bene o male, da dove nasce questa mia passione per le cose un po' arrangiotte, per le cose un attimino tresciotte. Il mago Gabriel è sicuramente uno dei punti di riferimento di questa mia passione. Che poi è una passione tutta televisiva, perché il tresciume peggiore l'ho sempre trovato in televisione. Poi con il tempo ho imparato a collezionare quei film che mi davano quelle emozioni, ma negli anni novanta bastava accendere la televisione, tenersi lontani dalle ammiraglie di Rai e di Mediaset e tutto il resto era tresciotto forte, era proprio tresciotto forte. Quindi ragazzi, io non lo so, probabilmente vi linko qualche video del mago Gabriel qui in descrizione. No, cercateli voi, scopritelo, fate ricerca, come facevo io all'epoca con i cartomanti. Non ve ne pentirete, il mago Gabriel potrebbe diventare il vostro nuovo miglior amico.